Musica Edizione della sera del TG Noi Versilia, buonasera, ben ritrovati con la nostra informazione. Apriamo con la cronaca, adescavano giovani frequentatori di alcuni locali della Marina di Torre del Lago per poi portarli in spiaggia e derubarli. Tre persone giovani sono state arrestate dai carabinieri di Viareggio. Sentiamo i particolari nel servizio di apertura di Silvia Toniola. Adescava gli uomini nei locali fingendosi disponibile a passare la serata con loro, li induceva a seguirla in spiaggia e poi insieme ad altri due complici li rapinava. Tre giovani, Florea Drago, sul rumeno di 19 anni, e Silvi Baccara, 27enne di Pisa, e una ragazza di 23 anni sono stati arrestati dai carabinieri di Viareggio per rapina aggravata in concorso. I tre, nella notte tra il 29 e il 30 giugno, avevano rapinato un 32enne di Prato. La donna lo ha avvicinato all'interno di un noto locale di Torre del Lago, riuscendo poi a condurlo in spiaggia in un punto buio e isolato. A quel punto sono arrivati gli altri due complici che hanno immobilizzato il giovane e minacciandolo gli hanno sfilato dal borsello e il portafogli contenente soldi in contanti, carte di credito e anche il telefono smartphone, dandosi poi alla fuga. La vittima è però riuscita ad identificare l'autovettura utilizzata dai malviventi e ad informare i carabinieri che sono riusciti a risalire all'identità della donna proprietaria del mezzo. È un'attività di indagine che ha consentito di individuare tre soggetti già noti alle forze di polizia per quanto riguarda i reati di rapina aggravata in concorso. Non escludiamo che ci possano essere state altre vittime che per qualsiasi motivo non abbiano denunciato i fatti subiti e quindi è un punto incognito questo. Speriamo, ecco, dopo la notizia, speriamo che eventualmente ulteriori vittimi che segnalino gli episodi. Nella stessa sera i tre avevano provato ad attuare poco prima un'altra rapina che però non è andata a buon fine. La sera successiva l'episodio si ripete in un altro locale altrettanto noto di Torre del Lago ma questa volta la vittima ha riconosciuto il gruppo che la sera precedente lo aveva rapinato e ha subito contattato i carabinieri che li hanno rintracciati e identificati. I due uomini sono in carcere mentre la donna ha l'obbligo di dimora in una comunità terapeutica in Lombardia. Il lavoro adesso è la chiusura della spirale a Monsagrati. Prosegue il confronto fra azienda e sindacati, una prima offerta già rifiutata dai lavoratori. Intanto si guarda venerdì sera un consiglio comunale straordinario sul tema che sarà trasmesso dalla nostra emittente in uno speciale Dido. Sentiamo intanto il servizio. Di fatto l'unica cosa che hanno detto è che loro apriranno una disponibilità per 10-15 persone che vogliono trasferirsi a sintetizio. Non si sapeva. È normale. È questo in estrema sintesi l'esito dell'incontro richiesto dall'azienda spirale nella sede di Lucca di Confindustria al quale erano stati invitati i rappresentanti sindacali e le RSU interne allo stabilimento di Monsagrati. Un'offerta, se così può essere definita, che era già nell'aria da qualche giorno ma che rappresenta solo l'inizio di una trattativa tra lavoratori e azienda da quando è stata avviata la procedura di licenziamento per i 42 operai e operaie dello stabilimento nel comune di Pescaglia. Un'apertura che è stata giudicata ridicola sia dai sindacati che dagli stessi lavoratori ma che per adesso è l'unica sul tavolo delle trattative. Perché noi lo sappiamo che il sangue ci abbiamo vettuto rinunciando anche a ore per la nostra famiglia. Abbiamo levato dell'ore al nostro figliore, abbiamo levato dell'ore alla maritina, alla casa, alla famiglia e questo è stato ringraziamento. Intanto i lavoratori hanno deciso di sospendere momentaneamente lo sciopero e di ritrovarsi in assemblea le ultime due ore del turno di venerdì. Nella stessa serata si svolgerà in un capannone adiacente allo stabilimento di Monzagrati un consiglio comunale straordinario al quale parteciperanno anche le amministrazioni degli altri comuni interessati e i parlamentari della nostra provincia e che Noi TV seguirà in diretta con una puntata di speciale Dido. Lotta dura senza paura! Una mobilitazione che va avanti come avete sentito ha coinvolto anche le amministrazioni versiliese interessate dove molti cittadini lavorano in questo stabilimento, camaioresi e massorosesi in particolare e che hanno già espresso la solidarietà a quanto accaduto ai dipendenti della spirale. Restiamo in qualche modo in tema di lavoro perché si sono rinnovati i vertici della CGL della provincia di Lucca, confermato alla guida Rossano Rossi che ha tracciato le priorità per questo nuovo mandato. Rossano Rossi è stato rieletto alla guida della CGL provinciale di Lucca. Con 61 voti favorevoli e uno solo contrario, Rossi proseguirà nell'incarico di segretario generale della Confederazione assunto a giugno 2016. Confermata anche la segreteria composta da Maria Rosaria Costabile e Fabrizio Simonetti. L'elezione è giunta al termine del settimo congresso che la CGL ha svolto al Real Collegio di Lucca il 15 e 16 ottobre. Nella sua relazione Rossi ha chiarito che le priorità per il nostro paese devono essere gli investimenti e il lavoro, le infrastrutture materiali e quelle sociali per ridurre le disuguaglianze, la messa in sicurezza del territorio, la riduzione dei divari territoriali. Nella manovra finanziaria del governo queste priorità non ci sono, ha detto Rossi. Anzi, questa manovra, ha detto il neoriconfermato segretario, è contro quelli che rischiano il posto di lavoro o che lavorano per pochi euro l'ora. A livello locale Rossi ha inoltre rilanciato l'allarme sui cosiddetti contratti pirata, stipulati dalle aziende con sindacati spesso di comodo, che violano i diritti dei lavoratori. Si tratta di contratti con copertura sanitaria al massimo di 45 giorni per qualsiasi tipo di malattia e che prevedono l'obbligatorietà degli straordinari. Noi saremo sempre più vigili, ha concluso Rossi, pronti a denunciare là dove si presentano situazioni di evidente illegalità. A Pietrasanta una montagna di foglie scaricate ai lati della strada, ennesimo episodio di inciviltà, succede in via Montecorchi a Tonfano, in via Sette Ponti invece smaltiti i materiali edili. La rimozione costerà al comune 218 euro. I casi si moltiplicano in queste settimane, segnalati all'urpo web del comune, costeranno alla comunità altri 600 euro extra. E si va, pensate, a 20.000 euro di costi extra nel 2018 per far rimuovere i rifiuti all'azienda Ersu. Insomma, che diventa il doppio se si contano gli abbandoni di Eternit, che solo nel 2017 erano costati 11.000 euro. Nel 2018 si in cui 5.000 euro spesi dal comune per l'Eternit abbandonato in giro per le strade, in particolare via Sipe, via Fiumetto, via Tre Ponti, via lungo Fiume Versilia, via Portone e via Pisanica. E c'è la dura condanna da parte del vice-sindaco e assessore all'ambiente Elisa Bartoli, perché queste rimozioni, l'inciviltà di pochi, pesa sulle tasche di tutti. Si andrà avanti, fa sapere, sulla strada dell'isola mobile come quella del verde a Strettoia, che ha dato risultati positivi e che sarà estesa anche altrove. Per la politica, all'indomani del congresso regionale del Partito Democratico, nella lista provinciale a cui spettavano 32 seggi in assemblea regionale, risultano 23 eletti per la lista di Simona Bonafè e 9 per la lista di Valerio Fabiani. Parliamo degli eletti in provincia di Lucca, dove Bonafè ha vinto con il 73,3% dei voti. C'è il commento del segretario versiliese Riccardo Brocchini. Lavoreremo uniti in vista delle prossime scadenze elettorali. Ringraziamo gli oltre mille votanti e tutti i volontari che hanno reso possibile questo appuntamento di partecipazione. Maurizio Verona, sindaco di Staziamo e vicepresidente della provincia di Lucca, sarà l'ospite di una puntata di questa settimana di Botte e risposte in diretta giovedì alle 21 su Noi TV. Risponderà alle domande da studio, ovviamente come sempre da casa, via sms e whatsapp. Potrete seguire l'intervista di Botte e risposta anche in diretta streaming sulla pagina Facebook Rete Versilia News Noi TV. Il turismo, la promozione turistica purtroppo una Versilia ancora divisa con località che procedono, separate nel promuoversi alle fiere più importanti, anche se, sottolinea Federalberghi, finalmente c'è una forma di coordinamento nella partecipare a queste iniziative internazionali. Ma sentiamo il servizio. I comuni versiliesi coordinati, ma non ancora uniti, nel campo del turismo nazionale ed internazionale. Ognuno con il suo brand si avviano a seguire l'esempio di Forte dei Marmi, emblema dell'elite e del lusso, la quale si è appena distinta in una vetrina di prestigio assoluto, quello della Fiera del Turismo di Rimini, importante che Hermès è conclusasi da poco nella città romagnola. Una tra giorni che ha visto protagonista esclusivamente lo stand di Forte dei Marmi, in rappresentanza del brand Versilia, che di fatto ad oggi non esiste, nemmeno nella forma. L'appuntamento di Rimini è stata anche occasione per sviluppare e potenziare la rete di conoscenze e di contatti, creando relazioni con importanti attori del mondo della comunicazione turistica. Ma quanto pesa per gli altri sei comuni della Versilia la presenza univoca del comune di Forte dei Marmi ad un evento così prestigioso a livello internazionale? Il presidente di Federalberghi Toscana e Forte dei Marmi, Paolo Corchia, ritiene che l'appuntamento con la Fiera di Rimini possa rappresentare un esempio e non un danno per il territorio versiliese. Saremo anche capofila nell'ambito turistico che la regione prevede per i territori toscani, per cui dovremo anche essere noi un pochino a trascinare il resto della Versilia, anche perché il nostro turismo è quello che meglio rappresenta il settore lusso, ma non solo, abbiamo intenzione di andare a Mosca in una manifestazione organizzata da Lenit in collaborazione con la Russia dall'8 al 10 dicembre, se non sbaglio, per le date, in cui Lenit parlerà di Versilia, avremo, sarà anche la tematica, il territorio meglio rappresentato e portato in evidenza a Mosca in quel periodo, con tutti i sette comuni versiliesi chiaramente. E a proposito di promozione turistica, c'è anche qualcun altro che si promuove, il Carnevale di Viareggio l'ha fatto a Montecatini in questi giorni, l'ha fatto tuttora partecipando al Summit Adventure Travel World Summit alla Grand Hotel Apace di Montecatini, infatti la musica e l'allegria dei figuranti dei carri del Carnevale di Viareggio hanno coinvolto i 750 tour operator e giornalisti di avventura che nella serata di martedì hanno partecipato all'apertura del Summit. A portare il saluto della Fondazione Carnevale, la consigliera di amministrazione Monica Guidi, accompagnata da Burlamacca e Ondina, ha presentato agli operatori turistici di tutto il mondo la tradizione del Carnevale di Viareggio, anche con suggestive immagini degli ultimi corsi mascherati. I figuranti che vedete in queste immagini sono quelli delle costruzioni di Bonetti e le Big Roger, hanno stupito e coinvolto i presenti con le coreografie dei carri Boruca e Burrocresi dell'ultima edizione, anzi dell'edizione 2017, mentre sui maxi schermi presenti in sala scorrevano le immagini dei carri. L'Adventure Travel World Summit, pensato è il più importante evento internazionale dedicato al turismo avventura e outdoor e durerà ancora 24 ore, si tratta della sua prima volta in Italia, appunto a Monte Catini e il Carnevale era presente. A Fortele Marmi adesso una giornata di festa, quella di domenica scorsa, per omaggiare le associazioni di volontariato del territorio. Il servizio con le immagini di Paolo Balberi. Una grande giornata di festa dedicata al mondo dell'associazionismo si è svolta con successo domenica Associamo il Forte, evento dedicato alle associazioni del territorio, erede di Futuriamo, manifestazione ideata dalla precedente amministrazione. È stato l'ultimo atto di Un mare di salute, Un mare di salute, la serie di iniziative organizzate dal Comune e improntate a diverse tematiche, dalla tutela e difesa del territorio alla salute della persona, passando per l'aggregazione sociale. In Via Matteotti e in Pineta Tarabella, nella giornata di domenica, presenti stand delle varie realtà associative, tra bande musicali, talk show, pranzi conviviali e infine la presentazione del progetto Partecipiamo il Paese, voluto dall'amministrazione. Un progetto che l'amministrazione sta portando avanti dal titolo Partecipiamo il Paese. È un progetto sulla partecipazione che coinvolge l'amministrazione, i cittadini e le associazioni. Io ringrazio tutte le associazioni che hanno collaborato per la realizzazione di questa splendida giornata. A passeggiare fra i banchi anche il neodeputato ed ex sindaco Umberto Buratti, che intervistato da Paolo Barberi, ha portato il suo saluto alle numerose realtà cittadine. È stata un'iniziativa che si decise insieme a tutte le associazioni e qui questa mattina vedo ancora tante associazioni e questo mi fa piacere. Ci sono qua gli amici pescatori dell'antico pontile caricatore di Forte dei Marmi che fin dal primo giorno dopo la ristrutturazione del pontile si sono impegnati per la manutenzione anche della struttura. Quindi un grazie va a loro ma a tutte le associazioni che partecipano perché sono anche quella forza vitale della nostra comunità che se è vero che ha perso anche tanti residenti però ha tante associazioni che continuano a dare appunto questa forza vitale, questa energia alla nostra comunità. Dossi e buche e addio in molte delle strade dissestate del comune di Pietrasanta, in particolare a Focette, frazione, località di Marina. In questi giorni eseguiti molti lavori attesi per le asfaltature. Si parla di un chilometro per la località di Focette. L'amministrazione Giovannetti infatti ha stanziato un milione di euro per le riasfaltature sul territorio. Si aggiungono, si legge in una nota del comune, 300 mila euro stanziati per lavori minori nelle frazioni segnalate dai cittadini nel corso dei vari incontri avvenuti di recente. Strade rimaste in molte casi dissestate per lavori per le fognature o per la fibra ottica con lavori eseguiti da Gaia o da Telecom a Focette. A breve, annunciato il sindaco, arriverà anche la nuova segnaletica. Intanto qua vedete siamo in centro storico, è iniziato il restyling del passo pedonale di collegamento tra via Oberdan e via Stagiostagi con il rifacimento della pavimentazione danneggiata dal tempo. Anche l'amministrazione con il sindaco è stata sul posto, intervento atteso da anni destinato a riqualificare uno dei principali ingressi del centro storico e poi ovviamente l'obiettivo di eliminare le sconnessioni che sono un danno per il decoro ma soprattutto per la sicurezza e l'incolumità dei pedoni. Sempre per Pietrasanta è arrivato il voto all'unanimità in Commissione Ambiente in Regione Toscana al Consiglio regionale per la mozione in merito all'inquinamento dell'acqua nella zona di Val di Castello e Baccatoio, iniziativa del gruppo Si Toscana emendata e sostenuta dal Presidente della Commissione Ambiente Stefano Baccelli. Obiettivo della mozione, ha sottolineato il Consigliere Lucchese a impegnare la Giunta a relazionare nella Commissione in merito alla situazione attuale, soprattutto i risultati dell'azione di monitoraggio da parte di Arpat sulla qualità delle acque. Voltiamo pagina, adesso vi mostriamo una domenica speciale sulle apuane fra natura, territorio e buon cibo, speciale perché è stata per molti, giovani e meno giovani addosso d'asino, i cosiddetti mici in dialetto versiliese. Tuffati nel verde pacifico della montagna, nel parco delle apuane, è bello passeggiare in compagnia, respirare a pieni polmoni, godere delle bellezze delle cave e dei marmo e inebriarsi dai tanti profumi che la natura incontaminata regala. Ed è ancora più divertente e bello essere supportati nella camminata dall'animale da Soma per eccellenza, l'asino. La bella esperienza è stata consumata sabato 14 ottobre da un folto gruppo di persone in una magnifica giornata d'autunno con il sole ancora caldo che ha consentito di riscoprire, paese dopo paese, il lavoro manuale e tutte le vecchie tradizioni contadine. Il bello di questa iniziativa è il desiderio di condividere con gli altri le magnifiche esperienze, accompagnati per la gioia dei bambini da somari o mici, come vengono chiamati in Versilia. Si parte presto al mattino, come vuole l'organizzatore, nell'otessa della compagnia del micio di Querceta, accompagnati da guidi che tutto sanno sulla storia delle località che vengono visitate. Dove ci troviamo la strada di accesso, quella attuale, è venuta fuori alla fine degli anni 50. Fino a quegli anni tutti questi borghi, queste località, Azzano, Giustagnana, Fabiano, erano raggiungibili soltanto a piedi attraverso le famose mulattiere. Le mulattiere sono strade costruite nel tempo in maniera organica da gente che sapeva veramente cosa fare e sono state il mezzo di locomozione per tutte le persone che avevano necessità di trasporto, di commerci e di attività varia. È bello raccontare ai bambini di oggi come erano e come vivevano i nostri nonni, riscoprire così vecchie tradizioni e consuetudini in modo che dal passato si debba imparare ad affrontare il futuro. I mici sono meravigliosi animali, da sempre compagni di fatica dell'uomo, hanno la capacità, con il loro andamento calmo, il temperamento docile e affettuoso, di farci riscoprire una memoria storica importante. Ci fermiamo qua con la pagina di Cronaca, tra poco dopo la pausa di nuovo insieme con le notizie sportive del nostro telegiornale. Tra poco. Ben ritrovati, eccoci alla pagina sportiva, in apertura hockey su pista e intanto la data dell'atteso derby della Versilia fra Cigici, Via Reggio e Forte Le Marmi, che subisce una variazione, è a questo punto fissato per mercoledì 24 ottobre, naturalmente al Palabarsacchi, spostato di un giorno rispetto alla data inizialmente prevista di martedì 23 ottobre. Noi TV ovviamente coprirà come sempre il match con la consueta telecronaca che sarà trasmessa in differita, come tutte le casalinghe, venerdì 26 alle 21 in prima serata. Dunque in casa bianconera si guarda al derby, ma il direttore sportivo Alessandro Pardini chiede intanto ai suoi più concretezza, specialmente nelle fasi di gol e dunque quando si trovano sotto rete. Sentiamo. Al microfono di Daniele Maffei, il direttore sportivo del Centro Giovani Calciatore Alessandro Pardini, analizzando la gara persa dei bianconeri a Tristino, preme su un aspetto, quello che la squadra deve essere più concreta sottoporta quando costruisce azioni nell'arco della partita. C'è l'amarezza di aver perso le partite consecutive, le prime due del campionato, c'è l'amarezza di aver perso anche nel modo in cui si è perso. È una cosa che canto ormai dall'anno scorso, dall'inizio, ed è indiscutibile che noi abbiamo giocato contro una squadra che è stata più lucida, più razionale e più determinata di noi. Non te ne girarci intorno. Abbiamo preso un primo go che non va preso perché quando si arriva così in velocità con l'uomo alle spalle non si deve permettere di far far go. Quando abbiamo delle punizioni prima del rigore dobbiamo realizzare e quando abbiamo delle occasioni in rete dobbiamo realizzare e quando si tira un porto dobbiamo entrare in porta con maggiore efficacia e maggiore precisione. Sicuramente sono squadre queste qui che ci creano grandi difficoltà perché si chiudono molto e poi ripartono con grande velocità. Noi dobbiamo riuscire chiaramente ad affrontare queste gare con una cattiveria che non vuol dire essere nervosi, vuol dire essere una cattività lucida, una determinazione lucida perché queste sono gare che deve indirizzarle in un certo modo. È successo come con lo Scandiano. Con lo Scandiano la partita andava indirizzata e non l'abbiamo indirizzata. Questa sera la partita andava indirizzata e non l'abbiamo indirizzata. Questa è una buona squadra indiscutibilmente però io dico è una buona squadra. Mi sembra che questa sia una grandissima squadra quindi noi dobbiamo farci un bel esamino di coscienza non fare tragedie perché qui non bisogna fare tragedie però dobbiamo essere molto molto lucidi nell'analizzare la cosa e riaffrontare la prossima settimana per preparare un'ulteriore partita ancora più difficile con l'inforte dei marmi ed entrare in campo con la giusta cattiveria. Lasciamo l'ho che adesso il calcio, la Serie D. Intanto in casa del Viareggio c'è da registrare la squalifica per due giornate per il giocatore Jonathan Mattei e per il match del 4 novembre Viareggio Prati la sede di gioco dovrebbe essere lo stadio Necchi Balloni di Forte dei Marmi. Sempre per la Serie D sabato 20 ottobre li anticipi tra Sandonato e Seravezza, Ponsacco Gavorrano, Trestina Massese, Sinalunghese, Montevarchi, San Giovannese, Bastia. Iniziato intanto il campionato di terza categoria che ha visto la vittoria del San Macario sull'Atletico QM per 3 a 1. Sentiamo. Sabato ha preso il via il campionato di terza categoria sia il giro di Lucca che quello di Massa Carrara e le previsioni della vigilia hanno confermato le aspettative e le formazioni più forti sulla carta hanno vinto. Con le immagini di Mondocalcio Versilia abbiamo seguito la gara di terza categoria del giro di Lucca tra Atletico QM e San Macario. I lucchesi hanno vinto per 3 a 1 con le reti di Puccinelli e una doppietta di Simonini mentre per l'Atletico il gol della bandiera è stato realizzato da Seruc. Al microfono di Carlo Cosci ascoltiamo adesso Roberto Bisordi, tecnico del San Macario ed Erzilio Belcore, allenatore dell'Atletico QM. Sono contento dell'inizio di questo campionato, speriamo che sia di buon auspicio per la nostra prosecuzione del campionato. Prendiamo questi tre punti e è sempre importante partire bene per il morale, per i ragazzi. Bisogna anche dire che mancavano diversi giocatori, però va bene, ne prendiamo atto e cercheremo di allenarci meglio e smaltire un po' quello che abbiamo nelle gambe, perché eravamo lenti, prevedibili e cercheremo di far meglio la seconda partita. Questo purtroppo è il calcio. Il Beach Soccer adesso perché si festeggia ancora a Viareggio il successo storico della Nazionale Italiana di Beach Soccer. Martedì sera al ristorante Giordano Bruno, una vera e propria festa per i 5 Viareggini campioni d'Europa di Beach Soccer. Come sapete più di un mese fa ormai la Nazionale Azzurra si è aggiudicata il titolo di campione d'Europa con la conquista della Coppa nella finalissima e qua vediamo alcuni momenti con anche le immagini della vittoria con i Viareggini che si sono distinti con la maglia azzurra, fra questi anche coloro che vestono la maglia del Viareggio Beach Soccer che ha organizzato la serata, ovviamente Gori, Ramacciotti, Marinai e Carpita. Ci fermiamo qua con lo sport. Trapporto poco di nuovo insieme con gli eventuali aggiornamenti del nostro Tg. Ben ritrovati, terza parte del Tg Noi Versilia, non ci sono aggiornamenti di cronaca al momento, vi ricordo però che potete consultare il nostro sito web noitv.it dove potete vedere tutti i principali fatti della giornata, i servizi e tutte le produzioni della nostra emittente e anche altre notizie e approfondimenti dalla Versilia e dal resto della provincia di Lucca. Prima di salutarci la rubrica degli auguri, come sempre stasera felicitazioni a Massimo Mencarini e alla moglie Antonella Tofanelli di Torre del Lago che oggi festeggiano il loro nono anniversario di matrimonio come se fosse il loro primo giorno. Auguri da parte dei suoceri Luciano e Maria, dai nipoti Michela, Manuela, Valentina, Francesca e dal nipote Maurizio. Auguri anche da tutti i parenti, amici e colleghi di lavoro dell'Istituto Comprensivo d'Arsena. Festeggia il compleanno, oggi Egisto Livi, interprete del Carnevale di Viareggio, famosissimo soprattutto per l'interpretazione di Come un Coriandolo, canzone di Gianluca Cucchiar. Auguri da parte dei familiari, gli amici del bagno, 90esimo minuto di Focette e tutti i carnevalari. Festeggia il suo compleanno Carlo Cosci di Mondocalcio Versilia, di Viareggio, tifoso della Fiorentina. Auguri da parte dei familiari e degli amici. Auguri speciali a un collega, Abramo Rossi, collega della redazione di Noi TV, di Gallicano. Compie oggi gli anni, tanti cari auguri ad Abramo Rossi da parte di tutto il nostro staff. È tutto davvero per questa edizione, vi ringrazio per essere stati con noi e auguro a tutti voi un buon proseguimento di serata. Grazie a tutti.